Totti replica Berlusconi, il centro è di tutti. Autorità a Roma, fuoco a bancarella di libri usati nei pressi di Villa Borghese, la Slovenia, siamo all'estero, legalizza il matrimonio omosessuale e le adozioni per le coppie gay estero, ancora Ucraina, Blinken, dialogo con Wangui, sincero e costruttivo. Per l'autorità parti oice con la riforma, quadro stabile e chiaro. Confiscati i 23 animali sequestrati nel Piacentino del 2019, OIPA e l'Indice Parti Civili, un bene per il futuro degli animali. I due imputati sono stati inoltre condannati a pagare un'ammenda di 2.000 euro, oltre alle spese processuali e 2.000 euro per la costruzione di parte civile a favore di ognuna delle associazioni. Mastella, riformismo è il valore del centro, Berlusconi, Forza Italia, insostituibile, sogno di un paese libero. Passando alla lettura di alcuni titoli dei quotidiani che possiamo trovare in elicora, abbiamo per il Corriere della Sera, Covid, l'ondata estiva, la Repubblica e i poveri dell'inflazione. Per la stampa, Landini, Premi e ci ascolti o in autunno l'Italia esplode. I Brolin, Civiltà, Lamorgese e il Metodoratine così hanno rubato i voti. Il giornale Roma è in fiamme, Gualtieri come Nerone, Carnergia, Il Fatto Cotidiano e Nell'inizio ad annunare i contratti. Questo e molto altro, possiamo trovare su notizianubbligo.com la notizia giusta per te. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi do appuntamento alla prossima rassegna, senza prima ricordarvi di poter diventare giornalista per un giorno semplicemente cliccando qua. Grazie ancora, Loredana.